Amici e amiche di Vivi Casagiove, buonasera. Eccoci tornati in onda per svelare la sorpresa che avevamo precedentemente annunciato. Da questa sera un angolo della rubrica culinaria, gusto e sapori, sarà riservato esclusivamente ai dolci. Uno spazio per la creatività... Presento la curatrice, nonché ideatrice del progetto, Michela Lagnena. New entry della nostra reputazione. Vieni Michela. Buonasera. Eccoti. Michela, a te un benvenuto da parte di tutti e una veloce domanda. Come mai l'idea di proporre un angolo riservato ai dolci? Perché comunque i dolci mi sono sempre piaciuti, sono sempre state la mia passione e quindi perché non condividere questo hobby con gli altri, con i lettori e le lettrici di Vivi Casagiove? Noi ne siamo pienamente contenti. Immagino, sì. Anche perché siamo super colori. E penso che anche gli spettatori apprezzino un angolo, anche per qualche spunto di idea. No, esattamente. Infatti ciò che vorrei proporre è appunto dare slancio alla creatività e quindi comunque stravolgere la tradizione e la classicità. Cosa hai scelto di preparare per noi e per gli spettatori questa sera come prima puntata proprio riservata ai dolci? Sì, un tiramisù, però non il classico tiramisù che tutti conosciamo, bensì rivisitato da me che ho intitolato infatti tiramisù black and white bianco-nero, niente a che vedere con il juventino ovviamente, non c'entra nulla, però comunque realizzato appunto con due creme che danno quel colore. Ok, quindi lascio a te lo spazio, soprattutto la parola, affinché potrai illustrarci la ricetta e anche il procedimento quindi del tiramisù black and white. Perfetto. Ecco gli ingredienti per il nostro tiramisù black and white. Allora, partiamo con questi biscottini che poi utilizzeremo per la decorazione, come queste granelle di noccioline, per poi passare ad una delle creme principali. In effetti questa è la crema al burro al cioccolato, realizzata con 150 g di zucchero a velo, aggiungendo poi il cioccolato fuso a bagnomaria, 100 g, e infine 150 g di burro. La panna che poi verrà utilizzata per la decorazione finale, il ciuffo che andremo appunto a realizzare con la nostra sac à poche, e poi passiamo invece a quest'altra crema, che è la parte bianca del tiramisù, è una crema ai kinder cereali e quindi realizzata con mascarpone, 250 g, latte condensato, 150 g, la panna, 250 g, poi potrete aggiungere i kinder cereali sbriciolati e inoltre delle tavolette di cioccolato bianco grattugiato. Passiamo alla realizzazione di questo dolce, iniziando con questa crema, la crema white, appunto la crema kinder cereali, che andrò a porre nell'opposita sac à poche. Mi raccomando, deve essere molto morbida, altrimenti i cereali contenuti nella crema non riescono a passaggio e verranno stacolati. E ho potuto fare una prova prima nell'opposito contenitore, per poi passare al bicchiere, dove andremo a realizzare i dolce. Ok, dopodiché passo ai savoiardi, i tipici biscottini utilizzati per il tiramisù. Ovviamente per la bagna potrete utilizzare latte e caffè se non desiderate una forte essenza di caffè. Ok. Siccome dovrò realizzare il dolce in questo bicchiere, è opportuno comunque spezzare i biscotti, in questo modo. Ecco. Non bagnarli troppo, altrimenti rischiamo di creare una pappetta. Ecco, in questo modo. E vado ad appoggiarli sulla crema che ho messo precedentemente. Ecco qui, in questo modo. Perfetto. Dopodiché passo alla mia seconda crema, la crema black, e quindi utilizzerò l'altra sac à poche. E' importante che questa crema resti fuori dal frigo per un po' perché altrimenti rischia di diminuirsi e quindi diventerà impossibile con la sac à poche. Ovviamente, se siete bravi, potete utilizzare anche un pacchiaino semplicemente per porre la crema nel bicchiere, però la sac à poche è lo strumento ideale della perfezione e della precisione, ovviamente. In questo modo, faccio sempre la mia solita prova. Ecco, normalmente dovrebbe venire così e quindi passo alla decorazione. In questo modo. Ok. Ora passo di nuovo i miei biscottini, che vado sempre ad immergere in questa bagna realizzata con latte e con caffè. E che quindi vado a spezzare ulteriormente. Mi raccomando, la posizione dei biscotti è sempre orizzontale perché altrimenti non riusciamo a far notare l'effetto bianco-nero. Ecco qui. A questo punto posso aggiungere anche un altro strato di crema ai Kinder Cereali perché ho ancora spazio nel bicchiere. Prima di passare poi all'effetto finale, la decorazione con la panna. Anche perché abbiamo ancora un bel po' di crema qui. E quindi... Schizzato un po' di crema qui non mi avranno a fare niente. Ok. Perfetto. Aggiungo un altro strato di biscottini perché altrimenti diventa troppo cremoso e quindi non è piacevole al palato. Ecco qui. Quindi schiaccio. Attenzione a non sporcare comunque il bicchiere altrimenti esteticamente diventa un po' un pasticcio e quindi l'effetto gioco black and white sparisce del tutto. Ecco qui. Ok. Quindi il dolce è completato. Non resta che passare alla decorazione finale che devo realizzare con questa panna. e quindi cambio ulteriormente la mia sacca a poche. Sono sporcata. Non fa niente. Ecco. In questo caso ho deciso di utilizzare per la decorazione questo bertuccio a stemmina. Che adesso vedrete. Perché comunque è ideale per il tipo di decorazione che intendo fare. La panna non ha un gusto molto piacevole, è un po' insipida generalmente, però potrete appunto renderla più deliziosa aggiungendo un estratto di vaniglia. Se volete però non è comunque obbligatorio. Ok. Faccio sempre la mia prova. Mi raccomando è importante montare bene la panna altrimenti il nostro effetto sparisce. Quindi faccio la prova per cacciare appunto tutto l'aria. Ok. E quindi possiamo passare alla decorazione. Ecco fatto. Dopodiché, ovviamente così è un po' troppo semplice, possiamo aggiungere queste granelline appunto di nocciole, una pioggia anzi di granelline. Esatto, così. Non importa che cacciare. Tanto dopo puliamo. Non ci sono problemi. E infine prendiamo i nostri biscottini e li aggiungiamo in questo modo. Questa è una possibile soluzione, altrimenti se amate la semplicità ovviamente, perché se poi volete comunque creare qualcosa di più esuberante, potrete metterli così tutto intorno. E quindi l'effetto è una cosa così, una cosa del genere. Dipende da come amate decorare. Ok. E volete. Il dolce è pronto. Non ci resta che mangiarlo. Grazie. 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 Grazie a tutti.